Adesso sì. Bene, buongiorno, io parlerò appunto di Share Your Research, che è un po' anche il titolo di questo convegno. Preciso, in avanti della chiacchierata che faremo, che questa è la registrazione successiva a quella del convegno, che per motivi semplicemente tecnici è venuta molto disorganica, interrotta e tutto quanto. Ho quindi pensato di rifarla ad aula vuota, in modo che chi fosse eventualmente interessato può risentirsela in modo più confortevole, senza interruzioni, terminali che non funzionano, eccetera. Per il resto del convegno è andato tutto bene. Allora, perché questo titolo un po' criptico è tutto sommato un hashtag non particolarmente bello, perché è lungo, perché è complicato? Insomma, sappiamo quali sono le regole degli hashtag. Beh, perché è un po' il senso del convegno. L'anno scorso, proprio in quest'aula, osservatorio e master in comunicazione della scienza dell'Università di Padova hanno fatto, hanno promosso e portato a termine un convegno simile, ma orientato invece sulla comunicazione con i nuovi mezzi tecnologici, quindi Twitter piuttosto che altro, e anche i nuovi mezzi di pubblicazione di cui parleremo anche questa volta, nel secondo giorno, con Antonella De Robbio, per la comunicazione della propria ricerca peer-to-peer, cioè in sostanza agli altri scienziati, cosa che vedremo anche tra poco in una slide. Invece questo convegno vuole dare dei mezzi, soprattutto ai più giovani dottori di ricerca oppure che hanno appena finito il dottorato di ricerca e che hanno riempito completamente l'aula del convegno, vuole dare dei mezzi, dicevo, per migliorare la propria comunicazione, la comunicazione chiedo scusa della propria ricerca, al pubblico direttamente. Azione che come vedremo è sempre più desiderata dal pubblico e tutto sommato sempre più utile anche per poter proseguire la propria ricerca ricerca avendo fondi per farlo. Allora, ecco, io incomincio con Galileo non perché sono un astronomo e non perché sono al Dipartimento di Fisica e Astronomia, ma perché Galileo può essere ritenuto non solo il fondatore della scienza moderna, del metodo scientifico, tutte queste belle cose che sono vere anche se andrebbero esaminate nel dettaglio perché, come sappiamo, raramente una rivoluzione come quella scientifica, che è stata una vera e propria rivoluzione, avviene proprio per opera di una persona sola. Comunque, certamente, Galileo che ha calcato i pavimenti di questa università e ha insegnato nei 18 anni i migliori della sua vita, come dice lui, non l'ufficio stampa dell'università, è senz'altro il padre del metodo scientifico che ovviamente in 400 anni è evoluto moltissimo. Lui però, qui lo tiriamo fuori perché, qui sta presentando il cannocchiale al Dodici di Venezia perché aveva capito che poteva avere una valenza commerciale e anche questo lo faccio vedere volentieri a questa convegna perché domani la Chiara di Benedetto ci spiegherà come fare un progetto migliore per avere fondi. Ovviamente l'idea e la conoscenza la deve mettere il ricercatore, la metodologia e la strategia, ne parlerà la Chiara di Benedetto che è un'esperta di progettazione. Ebbene, lui era sempre alla ricerca di soldi, un po' per motivi familiari, un po' per la sua ricerca e aveva capito che il cannocchiale poteva essere molto utile ai veneziani per vedere i virgolette perfidi pirati dalmati, chiuse virgolette prima che questi vedessero lui, cioè la flotta veneziana. Lo tiriamo fuori perché lui capisce subito l'importanza di rivolgersi ai dotti, ai potenti, ecco qui quindi la sua rivoluzionaria scoperta che è quella dei satelliti di Giove, la scriverà con quello, con il messaggero delle stelle, Siderius Nuncius, la scriverà in latino per fare quello che oggi si chiamerebbe un instant book e mettere in pratica il sugello, una lettera all'editore di Nesio per mettere il sugello a questa scoperta che poteva essere clonata da chiunque, visto che ormai i cannocchiali si erano sparsi in tutta Europa. Certo, si voleva il genio di Galileo per capire che cosa la vedeva, col cannocchiale su Giove e per interpretare, si voleva il fegato di Galileo per dire questa è la prova che Aristotele e la Chiesa, eccetera, sbagliano, gli costerà un po' caro, insomma. Il dialogo dei massimi sistemi in cui con il trucco, diciamo, di un mezzo tonto e di un sapiente che cerca di convincerlo, espone tutta la sua teoria del mondo, invece Galileo lo scriverà in volgare, una invenzione in senso etimologico eccezionale perché capisce che doveva avere una più vasta, ecco, che non un libro in latino che di per sé era diretto a pochi. Questo è diretto a tutti, sia come lingua volgare che come approccio, un tontolotto che si fa convincere, ecco. Questa è la base di partenza della comunicazione della scienza. Vediamo gli ultimi settant'anni, stiamo in un periodo, i settant'anni della Costituzione, i settant'anni di tutte le cose importanti che sono successe dal dopoguerra da adesso. Allora andiamo a settant'anni fa. Settant'anni fa l'Italia, 1950 per dire 1945-50, io sono nato nel 50, era una nazione di contadini, distrutta dalla guerra, soprattutto al nord, ma anche al sud, in cui oltre il 50% delle persone viveva sulla terra, viveva di terra, non parlava l'italiano e non leggeva e non scriveva. La famosa cultura contadina di cui si parla oggi è anche questo. Ha dei lati decisamente bright, però ha anche dei lati decisamente dark. Da allora la questione è cambiata, è cambiata anche grazie all'azione pedagogica di questa persona di cui i più giovani non hanno mai sentito parlare e che è il famoso maestro Manzi. Maestro Manzi, io ho avuto l'onore di essere invitato a parlare di didattica della scienza, che è una materia di cui mi sono occupato per anni, a un convegno a Torino in onore dei, non mi ricordo quale, cent'anni forse, del maestro Manzi. Io me lo ricordo, ero bambino, è veramente un eroe della cultura, con una pazienza infinita, vedete lì la lavagna con delle esclamazioni, ha insegnato a due milioni di italiani, sono una cifra enorme, ci pensate, a leggere e scrivere con le trasmissioni televisive. Due milioni di italiani certificati, cioè che poi hanno avuto la licenza, allora si usava credo anche di terza elementare o di quinta elementare. Con un effetto poi ovviamente a cascata. In questa Italia la figura dello scienziato era quella che vediamo in questo gustoso e brevissimo filmato. tanto bravo, scrive, scrive, e che scrive? Tutto, articoli, riviste, insomma tutto, ultimamente per esempio ha scritto un articolo bellissimo sulla correlazione delle affinità etnologiche e linguistiche del COSA, del centro radicale delle voci dei gruppi del Mediterraneo. come? Ha fatto una cosa, tutta una correlazione molto lunga, del Mediterraneo, ma ha un articolo bellissimo, non si capisce niente, niente, proprio niente. Ecco, a parte, apro una piccola parentesi, la incredibile bravura di questo attore del dopoguerra, il film mi pare sia del 46 addirittura, quindi è proprio il momento in cui l'Italia cerca di risorgere dalle macerie, anche socialmente. Aldo Fabrizi che è strepitoso e vede qui il monologo da solo in cui si ingarbuglia perché non ha più parola idea di cosa è scritto il figlio. La trama è molto semplice, lui fa il bidello, oggi si direbbe operatore scolastico, in una scuola anche importante di Roma e il figlio riesce con molti sacrifici a farlo studiare lettere e il suo sogno è che il figlio diventi professore come poi sarà e andrà addirittura a insegnare, per essere definitivamente l'orgoglio del padre, nella scuola del padre. Com'è lo scienziato, l'uomo di scienza, l'uomo di sapienza allora? Uno che scrive le cose talmente complicate non si capisce niente. negli anni 50 e 60 prebbi a Von Braun, il padre dell'astronautica americana, per la verità anche il padre delle bombe a razzo V1 e V2 naziste, però insomma poi ci ha fatto andare anche sulla Luna, diciamo così col programma Apollo che è tutto suo. Di tutto quello che riguardava lo spazio non si capiva niente, diciamo. Ecco, oggi la situazione è completamente diversa. Oggi c'è un bisogno assoluto, sia giusto sia sbagliato, questo giudicatelo voi, di farsi capire, comunicare la scienza, creare, abbiamo creato il master in comunicazione della scienza, è corresponsabile. In questo una classe di persone che sono coloro che comunicano la scienza. Interessante, ma con dei problemi, allora una riflessione che io vi pongo si basa sulla mia personale esperienza che è più o meno modesta. Comunque io mi occupo, come si dice con un'espressione tremenda, di comunicazione delle scienze dal 1995. Prima come una side activity, come si dice, poi sempre di più anche a livello accademico. Quindi sono vent'anni, è un buon life spawn per incominciare a porsi dei problemi, che sono quelli che io pongo a voi che invece cominciate. E pongo questa domanda, come mai dopo vent'anni di comunicazione della scienza a 360 gradi, quando siamo partiti da una situazione in cui le riviste di scienza erano sapere, una rivista detto con tutto rispetto, l'affetto e la gratitudine alla rivista sapere per pochi intimi perché tirava 2.000 copie. E l'altra rivista, anche essa importante, che però tirava 11.000 copie, che erano le scienze, siamo passati a una situazione in cui le scienze, anche grazie alla azione di direttori illuminati, è passata 70.000 copie a un certo punto, ed è entrata a gamba tesa una rivista, Focus, che è arrivata a tirare 600.000 copie, quindi che è una cosa enorme per chi compra le riviste, era più di panorama all'espresso messi assieme, una cosa enorme per l'Italia, ma anche non solo per l'Italia. Questo vuol dire sostanzialmente che c'era un bisogno di conoscenza di scienza, conoscenza come c'è un divertente sito in rete che tratta proprio di questo, che non era appagato. Bene, com'è che dopo? 20 anni di boom di riviste, boom di master in comunicazione nella scienza ce n'è dappertutto, ovviamente più o meno buoni perché ovviamente la gente queste cose anche se le inventa, in quanto le università, con i corsi di laurea, i master eccetera, fanno marketing e quindi chi insegna può essere più o meno trained, più o meno abilitato a farlo, parliamoci chiaro. Poi trasmissioni radiofoniche televisive, poi trasmissioni radiofoniche, parlerà qui Silvia Bencibelli che tiene una delle conduttrici molto apprezzate o più apprezzate, è sempre fastidioso dire più degli altri, a me personalmente piace più di altri conduttori senza togliere niente agli altri di Radio 3 Scienza che è una trasmissione in un momento molto importante, sono le 11.30 su Radio 3, abbiamo detto tv, riviste, siti web non ne parliamo anche se lì per la fallicilità di produrre siti web c'è un pattume pauroso. A questo punto apro una parentesi che chiudo subito, siamo attenti a questo discorso che internet è tutto pattume, è vera, ci sono quelli delle scie chimiche, ci sono quelli antivaccini, ci sono quelli del moto perpetuo, ci sono quelli che Einstein aveva torto, uno che fa il mio mestiere purtroppo ne riceve almeno una settimana di questi, non so perché Einstein aveva torto, se anche aveva torto era sempre un essere umano, ma ci sono tante tante persone in giro per il mondo che scrivono libri, io il primo lo vedi appena laureato nel 75 e me lo regalò il mio maestro qui, si chiama L'errore di Newton e allora è un bel libretto così lo conservo e allora è stato un diluvio, perché su internet web c'è anche della cosa pregiatissima, qualunque sia l'ipotesi di Wikipedia, quella particolarmente in inglese per le materie scientifiche è molto buona, quantomeno comparabile a un altro tipo di rivista, mentre invece trovate vocabolario tra tre cani, trovate la tre cani, trovate una quantità incredibile di cose importanti. Chiudiamo la parentesi e torniamo alla domanda, come mai dopo vent'anni di libri, siti, riviste, giornali, eccetera, siamo ancora al punto in cui l'interesse per la scienza non è cresciuto, il numero di persone che si iscrivono a lauree scientifiche, nonostante ci sia stato un devo dire poderoso programma lauree scientifiche, non si iscrive più gente alle lauree scientifiche, come mai il spazio nei giornali quotidiani non è aumentato, come mai il governo finanzia sempre di meno la scienza, è efficace quindi la comunicazione della scienza o è banalmente, non voglio offendere nessuno a me per primo, è diventato un settore in cui si galleggia. La domanda è forte e io spero che voi ne comprendiate il buon intendimento. Parliamo quindi di comunicazione, voi siete tutti ricercatori o aspiranti tali o già treni da ricercatori, il ricercatore come vedete in questa famosa vignetta molto simpatica, sa già tutti i trucchi per comunicare con i suoi colleghi, ecco lì i colleghi con maffe, sciabole, azzette di tutto, c'è addirittura la morte con la falsa, a me piace molto questa vignetta. Sa tutti i trucchi per arrivare alla fase finale del metodo scientifico, mi procuro dei dati, ci ragiono su, trovo un risultato, addirittura una legge, una teoria, comunque un risultato, lo scrivo e lo sottopongo perché la comunità scientifica lo accetti e quindi diventi, tra virgolette, vero. Questo è il metodo scientifico ridotto veramente a dei livelli da vergognarsi, però stiamo parlando di altro. Penso per esempio che Wittgenstein si starà di sicuro rovesciando nella tomba sentendo quello che ho detto io. Il metodo, lo sa, deve farsi accettare un paper, quindi di questo non parliamo anche perché ne abbiamo parlato lo scorso anno. Invece, fra pochi giorni incomincia il Festival della Scienza che è forse la prima di sicuro a livello europeo ed è la più grande anche manifestazione di comunicazione della scienza. a Genova ha una keyword ogni anno che è equilibrio. Devo dire che quest'anno l'elefante in quella posizione non è particolarmente felice come illustrazione perché chiaramente ha messo in circolo una quantità esasperante di battutacce. Ci siete andati, andateci anche quest'anno, perché è una manifestazione piuttosto impressionante. Nel giro di una decina di giorni 120-150 mila persone girano per Genova che diventa un'incredibile showcase, un'incredibile esibizione di scienza con conferenze, mostre, esperimenti, cose veramente notevoli. e lì si vede veramente un coinvolgimento della, virgolette, gente. Il coinvolgimento della gente lo vedi perché ci sono famiglie con bambini, anche piccoli, anche in carrozzina, anziani, persone di tutti i livelli sociali. Qual è quindi oggi il ruolo e quali sono i mezzi oggi per comunicare la scienza in un'epoca in cui siamo overwhelmed, sommersi, sovrastati dalla tecnologia, queste io le amo molto, queste locandine, sono locandine retro, dei social più moderni che sono YouTube, Twitter, Skype e Facebook. È ovvio che queste sono una grande opportunità, è ovvio che sono anche un grosso pericolo. quello pericolo è sempre quello della banalizzazione. Qual è la figura oggi dello scienziato? Ecco, mi piace mettere in diapositiva questi due scienziati, uno scienziato uomo, diciamo che addirittura ha le ali volanti, ha il sangue sul camice, perché evidentemente lo scienziato è tipicamente medico, ha i pin's nails, quindi è moderno però perché la capigliatura è moderna, ha la cravatta ma i jeans, insomma è molto interessante questo scienziato maschio. Se voi andate a vedere in rete c'è un progetto che si chiama scienza come fatto chi lo fa, che è stato fatto dall'osservatorio che ha, e quindi quello lì è il mio avatar, semplicemente messo a disposizione di sociologi la propria rete di scuole in cui stava lavorando per un progetto di astronomia. sono stati fatti, è stata fatta con metodi che hanno deciso i sociologi, un piccolo questionario e dei disegni in cui è stato chiesto ai bambini e alle bambine di disegnare come è fatto un scienziato. Come è fatto uno scienziato e come è fatto una scienziata, vedete, questa invece alla mia destra è Chiara Di Benedetto che vi parlerà domani e che ha fatto anche questo con me e soprattutto con Federico Neresini che fa il sermon di questa sessione ed è un sociologo questo progetto. Apro solo una piccola parentesi, come avete capito io non resisto e ne apro. uno dei risultati interessanti, tutto da confermare, non è il mio mestiere, è che la percentuale di bambine elementari che si autorappresentano come scienziate è più alta del previsto, quindi questo suffraga un sospetto che c'era, su cui in pratica è partito il progetto, che le ragazze vedano il mestiere, diciamo così, di scienziata come uno dei mestieri possibili. Poi magari cambiano l'idea ma l'elementare è cambiato. Quindi, incominciamo a chiedersi, ma perché mai dobbiamo partecipare alla nostra ricerca? Perché è un dato che, boh, insomma non è mica scritto nelle tavole della legge, ha messo che uno segua la legge che dobbiamo farlo. Beh, ci sono dei bonus e ci sono dei malus. Se tu parli direttamente della tua ricerca al pubblico o tramite giornalisti, comunicatori, eccetera, della tua ricerca, metti dei punti a tuo favore. La prima è giustifichi investimenti. Se io parlo al pubblico e spiego cosa fanno gli astronomi, che è una cosa abbastanza romantica nella testa della gente, mentre ci facciamo un mazzo così con matematica, tecnologia e telecomunicazioni, giustifichi l'investimento, cioè perché un paese come l'Italia deve permettersi l'uso di avere mille persone a livello scienza, a livello amministrazione e tecnica che lavorano sull'astrofisica. Contribuisci al dibattito, la scienza è importante, perché andiamo su Marte? Perché andiamo a cercare quella di questi giorni, l'idiozia, mi ricordo come si chiama, selvaggia, qualche cosa che ha detto che andare su Marte è un spreco di denaro. Tanta gente, anche Salemme, che non so ben chi sia, ma uno che fa di quei film di cassetta, per carità ci vogliono anche quelli. Diciamo che ogni tanto escono queste dichiarazioni di persone molto intelligenti e trained nel campo, come la selvaggia Lucarelli, che rispondono più al famoso detto, a volte piuttosto che togliere il dubbio su quanto sia imbecilli è meglio stare zitti. Contribuisce al dibattito, che è un dibattito importante, perché la scienza, la conoscenza, più ancora at large, è una delle attività fondamentali del genere umano. Ispiri i giovani. Quanti giovani sono partiti a fare scienza perché uno zio, come è successo a me, per la cresima, intelligentemente, invece di regalarmi l'ennesimo, perché se ne regalavano è nel libretto da messa in Madre Perla. Con la copertina di Madre Perla mi ha regalato un libro che io conservo gelosamente, che è il mondo della scienza. Bene, io penso parecchi, come ho detto altre volte, io ho avuto una grande opportunità, io infatti scrivo per il Sole 24 ore e mi è stata commissionata una serie di interviste a persone importanti, premi Nobel, grandi direttori di NASA, eccetera, che io ho incontrato, incontro tuttora per lavoro. Bene, quello che ho scoperto, che è interessante, è che c'è sempre un libro o un episodio. Quasi tutti i premi Nobel hanno un libro, qualcuno ha un episodio. Visto che siamo astronomia, che c'è parecchi astronomi, posso riferire, per esempio, a Duccio Macchetto, un direttore dell'Hub Space Telescope per molti anni, un personaggio illustre, è nato nel giorno in cui o ha compiuto non so quanti anni, mi pare otto, non so, insomma, in un compleanno in cui è partito Yuri Gagarin per lo spazio, sapete che ha fatto tre giri e poi è andato giù, primo uomo nello spazio. Questa cosa è stata così forte che lui ha deciso che sarebbe occupato di spazio. Aumenti la forza del brand, il tuo brand, sei del Dipartimento di Fisica, sei dell'Istituto Nazionale Astrofisica, sei del Dipartimento di Psicologia, sei di un'industria farmaceutica, sei di un'agentia che fa comunicazione nella media, bene, parlando, convincendo la gente, illustrando il tuo lavoro, aumenti la forza d'impatto del tuo brand, la prossima volta che vai a parlare, dicono, ah, quello lì fa l'astronomo, ah, quello lì è quell'agenzia che loro ti trovano i clienti con Twitter, quelle robe strane, che è un grosso business oggi, e aumenti la possibilità di avere quattrimi per la tua ricerca, perché per esempio all'estero, qui ancora no, purtroppo, però per esempio tutti i contratti di NASA, o in parte, adesso sta cominciando anche l'Europa, spaziali, ma anche nella fisica, contengono una clausa che tot per cento di quel contratto deve essere devoluto alla comunicazione della scienza di che cosa si sta facendo con quei satellite, quali sono i risultati, soprattutto a livello anche scolastico. Da un punto di vista personale guadagni fiducia, e beh, sì, questo è ovvio, perché se io vado in un posto dove sono gradito, dove la gente mi dice, però, tutto sommato, io non lo farei per lo stipendio che avete, però fate cose interessanti, che è il tipico discorso che fanno a chi fa un mestiere di tipo accademico, e poi soddisfazione, autorevolezza e spesso ti diverti. La prima cosa, però, che si sbaglia è non dare ascolto a quella vocina che dice, ma chi sono i tuoi utenti? Eh, ma io poi me la cavo. Sentiremo poi, eh, ma io l'utenza, eh, ma io tanto la presentazione la faccio in 448, ma tanto poi non occorre provare, tanto è sempre la stessa cosa, arrivo lì col PowerPoint. Ecco, nonostante si provi tutto, come faccio sempre anch'io, grazie a un consiglio che ho avuto dalla speaker che poi, eh, parlerà dopo di me, ancora tempo fa, eh, poi succedono, possono succedere dei problemi, come sono successi, questo è il motivo per cui sto ripetendo molto volentieri questa, eh, comunicazione. La prima cosa che io devo capire è cosa c'è dietro a quei bersagli, questo è fondamentale. Chi sono le persone a cui parlo? Io qui sto parlando in questo modo, con questo approccio, questo linguaggio, questo modo anche fisico di rapportarmi, questo dress code che posso permettermi, perché non sto parlando all'Accademia delle Scienze, con tutto il rispetto, siete molto più interessati al Re di Svezia, però voi, se io non vengo in tight e vengo con un maglione, così, eh, alla Marchionne, eh, non vi sentite offesi. Eh, conoscere il proprio target, studiarlo, guardarlo, è fondamentale. Io al corso di Master c'entra poco con l'Astronomia, però è fondamentale per tutta la comunicazione della Scienza. Raccomando, una cosa che i ragazzi, le ragazze del, eh, ragazzi e ragazze poi fino a un certo punto, visto che sono tutte e tutti laureati, eh, non mi eh, credono mai, poi se ne ravvedono, ma ormai, come dice Dante, troppo tardi era. Allora, a parte gli scherzi, io raccomando, guardateli, guardateli nei pullman, guardateli in treno, guardateli al cinema, guardateli. Guardate cosa leggono, quando li vedete leggere un giornale, magari in terreno, eh, guardate come leggono i giornali, cosa leggono, se leggono il titolo tutto, che articoli leggono, insomma bisogna fare entrare un po' delle persone a cui parliamo dentro di noi, per essere empatici, simpatici, in senso letterale, non perché si fanno le battute più o meno cretine, come faccio io. Ho studenti di ogni ordine grado, quando parlo di studenti parlo anche di scuole elementari, io personalmente, a differenza di tante persone, penso che le scuole elementari, non parliamo poi degli asili, siano l'utenza di gran lunga, più difficile, io ci entro con grandi angoscia, lo faccio il meno possibile, mentre la gente spesso va a dire, ma sì dai vado a dire quattro boiate, questo significa secondo me non aver capito bene l'importanza fondamentale delle basi della propria istruzione, come sono o meglio dovrebbero essere, quello che si danno gli elementari. Ho colleghi, ho tra virgolette dei superiori, della gente che magari mi deve dare un posto, mi deve dare un finanziamento, sono colleghi, perché poi queste cose possono anche sposarsi, sono colleghi o è la fondazione casa di risparmio di Pisa a cui io sto chiedendo, non so, 100 mila Euro per fare un dottorato oppure un'altra cosa. Cambia molto tutto quello che vedremo dopo, o appassionati che sono anche un pubblico difficile, perché la passione, come diceva una famosa canzone molto bella di De Andrè che si chiamava Bocca di Roa, spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza pensare se concupito a cuore libero oppure a moglie, allora qui le mogli o i mariti non c'entrano, però gli appassionati sono anche quelli che ti vengono a dire, senta ma lei cosa ne pensa di quello che ho letto scritto su un giornale che ci sono due stelle che stanno andando una contro l'altra, tu magari hai avuto da fare quella settimana, non hai visto quella notizia, ti arrabbia un po', questo ti guarda e dice ma voi cosa mi manteniamo a fare se io che faccio l'avvocato ne so più di te. Attenzione, è una categoria molto importante, ma anche molto. Ecco, per non fare sempre fisico l'astronomo, metto dentro a pazienti, anche se poi c'è gente che ne parlerà molto, molto meglio e più di me. Qui dobbiamo mettere tutta la nostra sapienza, tutto il nostro studio e tutta la nostra attenzione. Perché? Perché è nostra responsabilità di persone che hanno fatto una ricerca e vogliono comunicarla a una di quelle categorie, è nostra responsabilità fare in modo che il messaggio arrivi meno deformato possibile. Il teorema di Shannon che io porto sempre ad esempio, che è un teorema di teoria di deformazione, però si può anche dire un po', insomma, accomodandolo in parole povere, ci dice praticamente che se la sorgente che sono io dice A, comunque il ricevente non può ricevere A, riceverà un A nel migliore dei casi, un A un po' storto, un A un po' frastagliato, un A con una gambetta un po' più corta e il problema che ho io è che non riceva B, questo è importante perché tante volte si sente dire ma io questi non hanno capito niente, non è che non hanno capito niente che tu non hai studiato il target, non hai fatto questo, non hai fatto quell'altro eccetera e quindi il tuo messaggio è risultato B. Io mi permetto di stressarvi e di dire che questa semplice posizione è fondamentale se voi non ragionate molto su questo, molto su questo, anche su quello che fate di comunicazione, non ne uscite vivi. Questa specie di stella a cinque punte dentro a un pentagono è quella che si fa in genere e coinvolge tutta la comunicazione. Sorgente e ricevente li abbiamo appena fatti, qui ci sono anche ovviamente tutte le correlazioni che posso fare. Sorgente e ricevente il punto fondamentale è che la sorgente deve avere ben chiaro quindi utenza, target, chi è ricevente e deve fare possibile perché A arrivi con A non tanto distorto. L'argomento ovviamente lo decido io ma anche questo ha a che fare con ricevente. posso spiegare la relatività ai ragazzini delle elementari, ma se voglio fare un pastrocchio, sì, non spiego un tubo, dico questi, siccome i ragazzini, una cosa che molto spesso gli adulti, comunicatori compresi, dimenticano, addirittura non sanno, è che i ragazzi fino a una certa età, 7-8 anni hanno forti capacità mimetiche, quindi fanno finta di aver capito tutto perché devono dare, questo è un problema grosso per esempio per l'insegnamento nel primo triennio, devono dare ragione all'adulto che gli sta davanti. Quindi l'argomento deve essere conosciuto bene della sorgente e adatto al ricevente. Ovviamente adesso vediamo anche il linguaggio e i media che hanno una loro specificità. Oggi va di molto, stiamo entrando nell'ultima parte della comunicazione. Oggi va di molto lo storytelling, cioè tutti quanti anche nei master ti ossessionano, delle volte lo faccio anch'io, racconta una storia, racconta una storia, narra, narra, ecco. Questo qui personalmente credo che abbia stufato, però può essere un buon mezzo la narrazione, la storificazione a determinate condizioni, cioè l'uditorio giusto, hai caratteristiche anche di tempo, luogo e spazio decenti e via discorrendo. È molto importante per esempio la comunicazione molto stringata, in questo caso ovviamente Twitter ci sta facendo diventare tutti quanti dei titolisti, voi leggendo i quotidiani su carta o su web, vi rendete conto e ci si rende conto sempre di più quanto importanti siano i titoli. Uno titolo può farci leggere un articolo altrimenti non leggeremo oppure può screditare completamente un giornale se, come capita, contiene uno svarione importante. Per esempio l'altro giorno ho andato in prescrizione Vanoni, quello del metodo Stamina, assolto il medico. Questo è uno svarione per carità, però un titolo del genere per chi si è occupato di questa cosa o anche l'ha seguito da comune cittadino, è importante perché dimostra la ignoranza del titolista in quanto uno dei problemi grossi del metodo Vanoni che era una truffa con scasso e appunto che il nostro non era affatto medico, ma era un professor di un qualche tipo, neanche tanto quotato, anzi per niente, di psicologia. Quindi questo è un grosso problema, mentre si può essere il titolo uomo morsica cane, il solito esempio che fanno i giornalisti, mentre se cane morsica uomo, si va beh, capita, mi è capitato anche a me due anni fa, non lo vado a vedere. Da questo punto di vista diciamo Twitter è fondamentale come esercizio perché questi benedetti 140 caratteri ci fanno esercitare sul fatto che per essere efficaci, incuriosgire, assertivi e simpatici bisogna fare veramente il Kama Sutra con i caratteri. Aggiungo a questo una forte raccomandazione a tutti quelli che qui fanno ricerca la vogliono comunicare oppure faranno comunicazione della scienza. Attenzione, l'Accademia ci fa uscire a tutti verbosi e in modo diciamo umanistico. Ancora oggi nelle tesi di laurea uno deve mettere una prima parte di introduzione in cui fa vedere che è competente della materia, il che è un'idiazia perché quanto sia competente della materia lo vedi poi dello svolgimento. Se uno mi fa una bellissima tesi sul transistor e poi l'esperimento che fa come tesi di sperimentare è una schifezza, a me francamente dei giornali che ha letto mi interessa poco. Quando noi siamo per la strada e così stiamo camminando uno ci dice scusi signora prego che ore sono? Sono le 11.20. Grazie, grazie e uno se ne va. Adesso io invece mi metto in un seminario, così in conferenza il pubblico davanti, la misurazione del tempo è sempre stato un problema dell'umanità, in ambiente accademico arrivo a dire, sono le 11.20, non mi ricordo cosa ho detto, arrivo a dire questa cosa dopo 20 minuti, questo si vede negli scritti, negli articoli, nelle interviste e tutto quanto. Quindi, per favore, chi fa comunicazione delle scelte? A domanda rispondo, che ore sono le 7.20. Cosa ha trovato New Horizon, i satelliti di New Horizon su Plutone? Ha trovato un mondo solido, incredibilmente fastagliato, con montagne, faglie e probabilmente una tetonica, cioè il fatto che la superficie si muove. Al centro c'è un bellissimo pianura fatta a cuore, questo ha, diciamo, fatto partire le ali del romanticismo in tutti i ricercatori. Punto! No, New Horizon è la sonda, NASA, che è andata più distante di tutte, ci ha messo un sacco di tempo, costa 600 milioni e ci ha fornito per prima le immagini dei pianeti. Che cosa me ne frega a me di questa roba qui? La dico dopo. Prima dico che ore sono? 7.20. 11.30. Ok? Non il contrario. Va bene, io questo raccomando sempre tanto. C'è una casa, come parlerò? Come parlerò? Questo anche dipende dalla persona che è davanti, se ho studenti della terza elementare, altra cosa poco conosciuta, perché è poco conosciuta? Adesso diciamo una cosa importante, fondamentale, perché si pensa che comunicazione, questo è un difetto tipico dell'ambiente accademico, sia una di quelle cose che uno fa a mano sinistra mentre con la destra fa ricerca. Un tubo, la comunicazione, si studia, si studia come si fa comunicazione, si pensa come si fa comunicazione. No, faccio divertire i bambini, sì perché ho dei nipotini, no io si so parlare ai bambini perché parlo alla dottrina cristiana e via discorrendo. No, si studia, ci sono centinaia di metri lineari di libri sulla comunicazione, su come si comunica, su che cos'è, su mezzi eccetera, ecco bisogna leggere alcuni, bisogna chiedere a chi la fa, bisogna chiedere a chi se ne intende, bisogna seguire alcuni giornalisti importanti, italiani e soprattutto esteri, bisogna seguire i TEDx migliori, bisogna seguire alcuni corsi di MIT che sono in rete. Questo bisogna fare, non è che mi invento perché oggi è un mondo cialtrone in cui si fanno gli eventi, si offre l'aperitivo, si fa lo speed dating e allora questa comunicazione della scienza. No, queste sono tarocate che le lasciamo fare a quelli che fanno gli eventi. Il livello di estrazione che noi dobbiamo scegliere è anche scelto in base all'utenza, dicevo, qui ho aperto il discorso studiare, perché per esempio pochi sanno che i ragazzini, fine ragazzine fino a 7-8 anni hanno una capacità quasi nulla di astrazione, tanto che ci sono delle scuole, soprattutto nell'est, scuole di pensiero, soprattutto nell'est per esempio Europa, che sono dell'idea di insegnare matematica solo dagli 8 anni in avanti, perché la matematica è soprattutto astrazione, il fatto poi che venga insegnata un'aritmetica pratica per non farsi bidonare al supermercato va benissimo, però il fatto che l'aritmetica siano numeri che si mettono in croce con le 4 addizioni, diciamo questo è un portato un po' banale della matematica. Quindi dalla concretezza all'astrazione andiamo i dati, l'informazione che ho, la conoscenza, la comprensione, il guardare dentro e infine portarlo dentro di sé. Questo è molto importante ragionare, come vedete sto usando poche slide perché ho cercato di mettere soprattutto quelle più importanti, quindi è molto importante ragionare su questo, che cosa voglio dare oggi, io in questo momento, in questa comunicazione sarei molto contento di stare fra understanding e insight. Se qualcuno di voi arriverà a wisdom, io sono l'uomo più felice della terra. Ma il mio obiettivo è di portare tutti lì, scusate ho sbagliato il pulsante. Il linguaggio, anche qui ci sono metri lineari, poi ne parlerà poi Tiziano Corneliani molto meglio di me, quando parlerà di realizzazione scientifica, bisogna che sia semplice ma non semplicistico. Le cose devono essere rese più semplici possibili, come diceva Albert Einstein, una frase che è detta ogni due per due, ma non più in là, cioè non bisogna mai arrivare a essere semplicistici nello sforzo di far capire a tutti i costi. Ecco, da tutti i costi non fa parte la comunicazione della scienza. E' adatto al target, deve essere il loro linguaggio, non sto parlando di linguaggio ammiccante, però sto parlando che alcune parole sono più usate o meno usate, per esempio dai giovani. Una persona come me che ha fatto liceo classico tanti tanti anni fa, quando si studiava latino, greco, eccetera, può avere un bagaglio e un lessico molto diverso che quindi deve studiare anche. Studiate l'utenza, vedi, raccomandazione precedente, capire un po' qual è il linguaggio. Non sto dicendo che dovete dire che con la k, o chi, o tvb, o tvtb, come si usano i ragazzi, sto dicendo che c'è un loro linguaggio. Non usate uno slang che non sembra uno slang, state attenti alle parole normali, perché mentre una parola complicata della scienza o della tecnica lo capiscono tutti, che è difficile, che a limite può incuriosire, le parole, tra virgolette, normali fregano. Per esempio, un bell'infarto non è bello per niente, però i medici dicono cos'ha il paziente 35? Ha fatto un bell'infarto. L'infarto non è bello, non è bello, è una malattia molto grave, è un evento molto grave nella vita di una persona. Una stella non nasce e uno muore. Non siamo poeti, non siamo… c'è stata nella versione dal vivo, che però insomma, come abbiamo detto all'inizio, aveva molti problemi tecnici. Una interessante osservazione di Antonella de Robbio, che dice, ah ma Faulkner dice le stelle nascono. Sì, allora io risposto, intanto non sono Faulkner, purtroppo. Prima. La seconda è che un conto è romanziere e un conto è chi fa comunicazione della scienza. Allora, questo non è un peccato mortale dire che una stella nasce, però va evitato. Perché poi, al nascere, è una cosa che viene impetuosamente al mondo. Se avete mai visto nascere un bambino, un gattino, un cagnetto, sapete che improvvisamente, tac, sbocca, come da una specie di Stargate, che è la pancia della mamma, il bambino, il gattino, il cagnino. Invece la stella si forma, si forma in migliaia di anni, eccetera. Quindi non nasce e non muore. State attenti al bell'infarto, state attenti ai casi più subdeli. Io sono un fisico, allora vi dico che precisione, che vuol dire essere molto meticolosi, in fisica significa semplicemente che una misura è ripetibile. Cioè, io ho trovato che questo tavolo è 2 metri più o meno 5 mm. Bene, se la misura è precisa, ogni volta che la ripeto è quasi sempre 2 metri più o meno 5 mm. Anche questa frase è equivoca, perché vuol dire che una volta la trovo 2 metri più 5 mm e una volta 2 metri meno di 5 mm. Questo ci porterebbe a stare zitti, per cui va un po' di granosalis. Quando sarete molto, molto esperti, però bisogna sempre pensare. Che cosa provoco io nel mio uditorio, utenza, con delle parole, con una stella che nasce? Allora, se voi conoscete un neuropsicologo vi dirà, per carità, nascere è evoca nei nostri sinapsi, questa roba qui io non me ne intendo, probabilmente sto dicendo delle idiosie pazzesche, è evoca il modello gestazione e gravidanza e nascita. Quando sarete molto, molto esperti, arriverete al fascino, che è sempre il modo migliore per comunicare. Infine, perché stiamo andando verso la fine, anche perché non voglio approfittare del fatto che lo stiamo facendo offline, dovete capire che mezzo state utilizzando? Vedete qui, giornali, il blog, Facebook, l'uccellino simpaticissimo di Twitter, una conferenza stampa e una comunicato stampa. Dovete capire, oltre che l'utenza, l'argomento, anche il mezzo e utilizzare di conseguenza tutto questo in modo specifico rispetto al mezzo, scegliere il mezzo migliore per veicolare questa comunicazione. Oggi abbiamo tantissime possibilità, sorge sempre quella domanda all'inizio a cui io vi prego di pensare e eventualmente rispondere, che è utilizzare il mezzo migliore con le sue parti positive per la nostra comunicazione e anche con tutti gli warning che io posso avere. Per esempio, Facebook è tipicamente una rete sociale, qualcuno dice sì, qualcuno dice no, in cui si fanno cose divertenti. Il giornale è inutile andare a fare dei piponi che non finiscono più su Facebook, anche perché poi ci sono sempre quelli delle scie chimiche, Twitter è molto amato dai giornalisti, molto amato dalle agenzie, quindi posso diventare io utente e posso coinvolgere gli altri e così via. Siccome poi se ne parlerà, io vado avanti. Voglio finire con due raccomandazioni, anche qui contro questo mondo cialtrone della comunicazione, anche della scienza, per cui tutto bene, tutto bello, abbiamo fatto un evento, sono venuta tanta gente che non aveva un genere in un tubo, hanno capito tutto, come fai a dirlo? Non lo so come fai a dirlo che hanno capito tutto, perché sono stati là fino alla fine, al massimo erano interessati. Allora, la prima raccomandazione da scolpire sul stone, sulla pietra è fare pratica, whenever possible, appena possibile. Fare pratica significa anche scrivere articoli che non verranno mai pubblicati, fare trasmissioni, guardare come sono fatte le trasmissioni, rifare una trasmissione come la farei io, anche se non verrà pubblicati, fare pratica vera on the field più possibile con Granussalis, non state buttarvi alla disperata a fare conferenze, a fare articoli, eccetera, ma buttatevi, questa è l'idea. E poi fondamentale è il feedback. Cosa ho fatto? Ho modo di chiederlo alle persone, magari in modo anonimo, magari in modo trasverso, in modo che non si faccia quella cosa tanto in voga oggi, cioè e si, dagli dico che è nato tutto bello così non mi rompe le scatole. Il feedback è fondamentale nella comunicazione, altrimenti potete fare quanto pratica volete, non andrete mai a fare progressi. Io ho parlato di scrivere ovviamente perché è quello che faccio principalmente io, però tutto questo ve lo diranno anche gli altri che parlano dopo di me, vale in gran parte anche per gli altri mezzi di cui io non parlo, public speaking, radio e televisione, perché parleranno persone molto più esperte di me. Io ho finito, vi lascio solo se volete raggiungermi. Trovate tutto su di me. In questo sito, Leo B, forse qualcuno conosce questo sito, se non lo conoscete vi consiglio di fare la vostra scheda, è molto comoda. About.me, a proposito di me, Leo B, io mi chiamo Leopoldo Benacchio e ringrazio per l'attenzione che vorrete avere in rete e ringrazio la parte tecnica a cui mi ha dato la possibilità di rifare, cortesemente, rifare questa comunicazione a cui tenevo. grazie, grazie, grazie. Perfetto. Grazie tante, sai.